amici zagoriani bentornati da oggi in edicola il nuovo zagor più il trimestrale che esce questa volta nella versione dei racconti di darkwood con cinque storie inedite andiamo a dargli un'occhiata velocemente insieme non l'ho ancora letto poi delle storie parleremo dopo però insieme possiamo dare un'occhiata sfogliandolo ai disegni ea un po di contenuti la copertina avevamo già vista molto bella di piccinelli con un tampi secondo me ottimo rappresentato veramente veramente bene vediamo subito quello del prossimo numero che uscirà il 22 agosto in una storia unica di 192 pagine ritorno nella città nascosta in una bella copertina che crea un'atmosfera particolare vedete questa scalinata con questo sacerdote che va verso questo prigioniero e zagor nascoste una colonna uno zagor bello secondo me particolare mi sembra un po più giovane qualcosa diverso ma lo vedremo poi questa copertina al momento comunque veramente una copertina che crea una bella atmosfera ok sì qui ci sarà vabbè lo vedremo la prossima volta il ritorno nella città nascosta ne parleremo più avanti ok diamo un'acchiata velocemente a questa questa storia da queste storie anzi vi farò vedere un po di tavole di ogni mini storia e andando a vedere poi i vari disegnatori e sceneggiatori vediamo intanto cosa ci dice moreno si moreno ci parla dei disegnatori di questa storia c'è una patrizia mandanici che esordisce per la prima volta su zagor nonostante sia insomma una disegnatrice già affermata e già conosciuta per tutto quello che ha fatto precedentemente vedo qui che dice trepito il giornalino star ha lavorato per star comics poi per la buonelli per l'ex e nata never gregori ante e anche per tex ha lavorato accidenti complimenti e poi un altro debuttante luigi merate anche se lui è un un veterano del fumetto un gran maestro del fumetto perché ha lavorato sul piccolo reggio mesterno diabolica insomma anche lui ha una discreta storia alle spalle ok diamo un'occhiata velocemente al labo ragazzi da questa la prima pagina della storia che farà poi da collegamento con le altre cinque le strade trampi di voltolini questa tavola secondo me è strepitosa guardate questa cittadina ragazzi i dettagli di questa cittadina come sono curati come sono belli con questo caro le persone notevole ragazzi queste queste copertine vanno sempre analizzate e godute con gli occhi per tutti i dettagli che ci sono avete un carro passanti questa bella entrata del ristorante ok disegni di voltolini li conosciamo molto classici guardate che bello questo trampi ragazzi con quest'aria furbetta pronta a combinarne una delle sue allora mi sono messo questi richiami per arrivare direttamente alla prima pagina delle varie storie a questa invece la pagina introduttiva della storia il segreto di olimpia di marolla anche disegni di bisi anche questa è una bella tavola introduttiva una foresta un classico quindi ci fa già capire ah guardate bella questa tavola ragazzi io non l'ho ancora sfogliato lo sto sfogliando insieme a voi questo quel ponte molto bello non voglio farvi troppo però qualcosa vi voglio far vedere ok e qui non voglio farvi troppo se non vi spoilerò troppo ok seconda storia un vero eroe di mignacco merati e qui c'è uno zagor che esce addirittura dalla vignetta molto bella questa prima pagina vediamo questo gruppo di casa di contadini e uno zagor che arriva di corso della foresta che esce addirittura dalla vignetta molto molto bella molto bella quindi come tavola d'esordio di merati mi pare notevole vediamo se c'è qualche altra tavola però anche qui non volevo farvi vedere troppo però insomma ecco anche qui una bella tavola di zagor è un combattimento ok storia dopo la locanda nella foresta di hacker candita e qui un bosco con tre persone che danno l'inizio alla storia e qui sfogliandolo prima ragazzi però ho visto una ragazza di un saloon che mi ricorda molto un personaggio della marvel per questa bandana che ha in testa avrete già capito parlo dell'ectra e me l'ha ricordata molto poi li vedete non ho letto la storia quindi era solo una cosa estetica diciamo ecco altra storia l'assassino è tra noi di burattini mandanici questa si svolge nella neve qua c'è già un bosco innevato molto bella ci porta subito in atmosfera invernale a queste zagor ragazzi ho capito sfogliandolo che questo che arriva zagor che va in questa capanna da questo strigone indiano ok molto belli queste questi disegni andiamo a vedere l'ultima anche se l'ultima poi è il finale della storia conduttrice perché queste queste mini avventure sono raccontate da trump quindi immagino il finale che andrà a finire che lui verrà scoperto insomma ne combinerà qualcuna delle sue e rimarrà bocca asciutta queste le copertine di maggio giugno ragazzi abbiamo già viste bellissime secondo me dei numeri già in edicola fanno parte della lunga saga del ritorno di super mike ok questa invece è la copertina del prossimo zagor più vi ripeto in edicola dal 22 agosto ok ragazzi ora oggi ne dico la prezzo 8 e 90 5 storie inedite 192 pagine racconti di darkwood le storie di trampi buona giornata a tutti